Ah ragazzi facciamo una storia su simscraftstagram Allora praticamente adesso io devo dire che faremo Acquereremo una banca dovete sapere questo oggi alla scuola Una banca? Sì sì davvero Quindi dobbiamo dirlo su craftstagram Allora State dietro di me perchè vi dovete vedere Quindi capito perchè io sto inquadrando voi anche voi Ma dopo ci arresta no Stai zitto non è vero Io sono bravo Ciao ragazzi Oggi sapete cosa faremo Faremo una banca bellissima Io non c'entro Quindi guadagneremo un sacco di soldi Ok perfetto il mio personaggio è ottimo Perchè praticamente sono troppo una bitch Insomma è una cosa un po' Andiamo a scuola perchè dobbiamo imparare le cose Forza forza venite insieme a me E vi porto io a scuola ragazzi Perchè voi ovviamente non sapete niente Dov'è la scuola? No no non si è capito niente di ciò che hai detto Ripeti un attimo Ho detto che la scuola fa schifo e fa paura Si esatto Però dovete sapere che senza scuola Noi non possiamo lavorare così a caccia Cosa lavoriamo se no facciamo i Lavoriamo alla craft chea Esatto come il tuo lavoro no? Si però insomma io con la craft chea Mi sono potuto comprare solo un iphone E poi basta c'è nel senso Vabbè un iphone Vorrei guadagnare tantissimo Ho capito non è proprio l'ultimo modello Poi peraltro è perché l'XS Mas Ma Mas Sì 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 va bene Insomma è molto bello Anzi il craft phone in realtà dovrebbe essere Insomma forza venite Questa è la scuola ragazzi Vede molto bella devo dire questa scuola Ah questo aborto Eh questa schifezza qua Ma stai scherzando Terribile scusami Ma infatti Ma stai scherzando Gli occhi Aiuto No sto morendo Ma cosa ti è caduto scusa il cuore Cos'è? No sono il cuore Sono i miei occhi Allora stai urlando però Stupido imbecile Non di permettere mai più di dire una cosa del genere Hai capito? Chiaro? Hai ragione Sì 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 Mannaggia te che direi Devo fare da babysitter C'è davvero Vabbè entriamo dentro la scuola Forza venite Andiamo andiamo Allora Ah ok Non mi si sta Non si apriva la porta Come si permettono Eh sì pure a me Amici io non voglio entrarmi Fa paura Brutti ricordi Ma no dai vieni No no Dai no Vabbè Hai brutti ricordi lo so Ora sarà però diverso Quindi forza vieni con me Insomma andiamo Non mi piace Vabbè non ti piace Non è poco importante questo Perché dobbiamo guadagnare Allora Dobbiamo andare alla prima ora Ok Quindi Va bene va bene Dov'è? Mi sa che io e Gabri No 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 Io vado in bagno No 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 ciao Com'è il bagno? Beh vabbè senti Allora forza vieni Gabri Andiamo Dov'è la classe? Eh da questa parte Forse qua Sì esatto Proprio questa Perfetto Bene 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 L'importante adesso È cercare Allora prima di tutto Chiediamo la porta Perché sennò poi Magari arriva il professore Sì meglio meglio Poi mettiamoci all'ultimo banco Perché per carità Mica stiamo Chissà dove Anche se però ci può vedere lo stesso Però vabbè Sì ma poi Hai notato che ci siamo solo noi qua dentro Mi sembra strana Sì infatti Ecco Buongiorno ragazzi Ma questo che c'è È un deficiente Ma esatti ma cosa sta facendo Perché siete agli ultimi banchi Venite qua Subito Va bene Forza Subito Prima che si incavoli Salve signor professor Questo va bene Ma c'ha picchiato Ma cosa fa Vieni davanti Guarda che questo qua è pazzo Gabri Fidati è pazzo Facciamo un appello Sì Allora Tu non isse? È presente Allora poi Gabri Presente Ma siete solo in due Eh sì A quanto pare Non lo so E io devo insegnare Sti cose qua Sti due qua Siamo persone eh Comunque noi Ma ti sta picchiando Eh Mamma mia che schifo Allora Comunque Oggi vi voglio insegnare Qualcosa di prezioso Che vi servirà nella vita Avete capito? Bello Ci dica Ci dica Oggi mi spiegherò Il funzionamento dei cuori Ok? Ok ma se urla Prendi un cuore Questo cuore è ve Guardi che se urla Mi nervosisco Cerchi di parlare un po' più basso Perché se no Poi dopo Duni si innervosisce Un pochino E mi è partito Allora Quanti Questo ha un cuore Guarda com'è molto bello Stai urlando Stai urlando Ma è morto No vabbè Io Ma infatti Non devono reagire con me Sai non devono Non devono Perché se reagiscono Basta Spacco tutto Non ne passo più Stacchiamo Stacchiamo Basta Pessimo Ovviamente Non fatelo Non faccio Nel senso Non facciamolo più E da delinquenti Questa cosa non si fa Non si fa assolutamente Brutto Quello che abbiamo fatto Aspetta che devo dire Faccio una storia Perché c'è una Allora Ragazzi C'è una storia Che sta volando Qua Mi sembra proprio strano E comunque Guardate un attimo Noi siamo qua a scuola Adesso E fra poco Attueremo il nostro piano C'è una lavagna Anche qua Che deficienza Ok bene Perfetto Ho fatto la storia Su craft Instagram Adesso Siamo più Siamo più pronti Adesso gabrim Vediamo Dovrebbe essere Ah no Ciao No No Sei pronto Per fare la prossima No no Lo so Tranquillo Tranquillo Come la prossima ora Eh c'è un'altra ora Perlomeno Io ho un'altra lezione Però Ok però tu hai una lavagna Al posto del busto Ma cosa è successo Sì È un po' preoccupante Come cosa Molto bene Ok bene Almeno te la sei tolta Va bene Allora tu vai Alla prossima ora Vado vado Ciao Ciao Dunis ho paura Eh dunis Proprio così Eh lo so che hai paura Però guarda Non ti devi preoccupare Dato che Ah qua mi sa che ci interrogano pure No 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 Guarda stasera È bruttissimo Eh hai ragione Forza vieni con me nonno Tranquillo Ma quella è la sede dei professori Mi sa Allora Ma no Allora è sbagliata questa classe Ma dove dobbiamo andare Scusami Allora rubiamo di una sedia Rubiamo di una sedia Esatto Tu userai questa sedia qua Perché è brutta Orribile Ok È da vecchio Quindi userò questa Senti Ti sposti Brutto Bastusti Ok Scusa Ammettiti qua davanti Perché dovrebbe arrivare Fra poco il professore Oddio chissà che cosa Eh Eh Ma ho paura Ho paura Aiuto Ma tranquillo Sarà sicuramente un bravo professore Guarda che dietro la schiena comunque è il cuore Non so come ci sia finito la dietro Cioè nel senso No no Aspetta che ti colpisco magari così Ti scegli un attimo Aia 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 Fai male Ok funziona Ti è sceso il cuore No non mi è sceso il cuore Mi sembra strano Eh No Oddio Buongiorno Buongiorno Scusa un attimo Mi scusi Non parli mai più Allora Stia zitto Non parli mai più Allora Nonno Vieni un attimo qua Ci aspetti un attimo Ci aspetti un attimo Eh Devo andare in bagno Oddio Dio mia Scusami Eh No Signore Non lo faccia mai più Perché l'ho detto Non lo deve mai più fare Prima ed ultima volta Che io ripeto Prima ed ultima volta Stia zitto Tolga quella voce di M Che si ritrova Si schiarisca la voce Allora Stavo dicendo Nonno Quello la Non sta bene No Prima di tutto non sta bene Poi quello la devi sapere Che il Dottore pazzo Quella che mi sembra dall'inizio L'isola Sì È proprio lui Ma te sei impassito Si è cercato di travestire tipo Guarda Guardalo là Si è messo tipo Gli occhiali Non lo so Hai ragioni Eh Allora Dobbiamo cercare di stare attenti Perché questo qua chissà cosa vuole Però dobbiamo assecondarlo in questo momento Dobbiamo far finta che non ne abbiamo capito Perché sennò Poi dopo Esatto Dobbiamo cercare di avere un profilo basso Soprattutto tu devi alzare il tono Perché il profilo basso Ok Ma il tono alto però Mi raccomando Buongiorno 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 Mi ha chiesto di sposarti Che schifo Che schifo Mi dica un attimo Ci dica Qual è la lezione di oggi Eh Questa è la lezione di chimica Però si è schierita la voce Devo dire Ma infatti Assurdo Molto meglio adesso Ok Quindi la lezione di chimica Ok Che cosa ci insegnano adesso Eh Ci dico un po' Eh io devo fare l'appello ora Ok Ci faccio l'appello Aspetta che faccio una storia su Instagram Ma Questo qua è proprio un po' Eh Non può usare il telefono Oh mi scusi Mi scusi Beh Sai io sono un craftfluencer Profilo basso Profilo basso Non mi interessa Cosa hai detto te Ok va bene D'accordo Ci dica un attimo Cosa vuole Cioè nel senso L'appello Sì ci dica l'appello Sì Dunis c'è Nonno c'è Ok Ha rotto un computer però È deficiente comunque lei È un vandalo Ma lei è un vandalo Eh io rompo tutto No Santa Maria Ha rotto davvero tu C'è un po' Si è nervosito un pochino Vabbè È normale la rabbia È giusto che si arrabbia a volte Ci dica cosa dobbiamo fare oggi Ci siamo presenti tutti e due no? Eh potete andarvele Ciao ciao Via Ma stava orlando comunque Io le lo sto dicendo E lei stava orlando Mi sa che c'è un po' di problemi Sto professore Le stava orlando signore E comunque si Ha un po' di problemi È un po' troppi forse Perché non ne ricordiamolo Non è un professore È il dottore pazzo Che ci sta perseguendo Ma cosa vuole? Infatti non sa fare il professore Si vede Ma sì allora senti Adesso dobbiamo Attuare il nostro piano segreto Ah eccola qua La stanza dei server Cos'è? Oddio è magic Bellissimo Sì 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 Adesso Oddio Nonno tu Dato che sei un perfetto Coso Informatico Farai un craft Era una sola Ma alla pena muovere il mouse Ma va bene No tu sei bravo Hai lavorato pure al craft BI Alla CIA Alla CIA Sì Io ti faccio No Please Ah gli occhi No no Eh gli occhi ti sono caduti di nuovo comunque Devi stare attento un attimo agli occhi Perché sono un po' vecchi questi occhi Un po' marci Se non voglio ti cadono tutti quanti Ma no No Sto morendo Sono un vecchio Per favore Per favore Allora Forza hacker alla CIA Adesso è la Va bene Banca Allora Ho spaccato il computer Sì ma dai ma sei deficiente Mettiti il computer qua L'ho rotto Eh va bene Adesso faccio la craft storia Ragazzi Guardate Devo fare però il personaggio Ragazzi stiamo hackerando il server della banca Guardate il nonno che sta hackerando Siamo proprio due perverte Insomma siamo proprio influencer nati Sei molto bene Ok perfetto perfetto dimmi un po' Nonno come Sì sto finendo sto finendo Bene Hai pure un computer comunque nel sedere Tra yard Addirittura Porca puzza hai un computer comunque nel sedere Cioè io te lo sto dicendo E poi dopo nel Scusi? Sì 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 scusi perché Vabbè insomma Ci stai riuscendo Oh mi sa che ho finito Guarda guarda È finito Bene Cosa Cosa C'è scritto 10 euro Ma come 10 euro Ma stai scherzando Cioè Eh Ma qua Senti non so Non so usare il computer Va bene Sto cose tarorra Carca miseria Aspetta Allora ragazzi Abbiamo hackerato la banca Però purtroppo è successo un po' Un casino Semplicemente Ma cosa succede qua dentro Esca un attimo Che non lo devo ancora finire Mannaggia È un poliziotto quello Stai zitto Non è vero E poi ti ho detto di toglierti il computer Da dietro Mannaggia te Non c'ho nessun computer Ok Ok bene Allora stavo dicendo Ragazzi Abbiamo hackerato Oh porca miseria Siamo ricchi Cioè nel senso Guardate Aprivi la porta Abbiamo milioni di influenze Abbiamo milioni di persone Di spettatori Ragacce Un milione Sì 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 Ma porca Mi sa che questa cosa C'è un poliziotto là fuori Mi sa che dobbiamo aprirgli comunque Ma davvero Quando l'hai visto scusami Adesso Che cosa succede qui Ah salve Io non lo conosco Io non lo conosco Questo qua non lo conosco Cioè proprio Infatti non lo conosco Cioè è stato lui che Mi sa che Ha fatto tutto lui Ma l'ha fatto tutto lui Ho visto le vostre craft storie Sì esatto Infatti ha visto che è stato lui A fare le cose Giusto Cioè l'ha visto Chiaramente No ha fatto tutto lui Io l'ho centro Io l'ho fatto nulla Ok L'ho fatto nulla È giusto Cosa Signore Tutte a due colpevoli Ah no 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 Colpevoli Mi sembra un po' esagerato Guardi Colpevoli non penso Rimettete 10 euro lì Uccidilo Ok No 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 Cosa uccidete Sei pazzo Poi ti ho detto di parlare forte Nonno deficiente Ti ho quante volte Scusa Di ripetere di parlare forte Quante volte Devo ripetere Di parlare forte Perdo gli occhi Ok mi scusi signor Coso Gli ho detto di rimettere I soldi dentro Dove stava Perché ha proprio ragione Guardi che è stato lei Cioè nel senso È stato lui Che mi ha detto Non è vero Ha fatto tutto lui Io non ho fatto nulla No l'ha visto Dalla craft story L'ha pure inquadrato Cioè nel senso Adesso vai dentro E rimetti 10 euro Forza Rimettete subito Se no cosa succede Ci dica un po' Andate via in carcere Se no Ah no 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 Rimetti le cose Nonno forza Vero Non c'è un computer Ma se Non importa Rimettilo da qua Ah che era le cose Muoviti Vabbè va bene Il calcio Lo tiro Lo sfondo Ok No ce l'hai di nuovo Dentro di te No Ce l'hai di nuovo dentro Te l'ho detto Ce l'hai di nuovo dentro Mannaggia sta roba Ok L'ha fatto Ho rimesso tutto dentro Tutto a posto Ma bene bravi Con interessi di 2 centesimi Addirittura Quindi Siamo contenti Giusto Sì Bene bene Allora la ringrazio Per non aver preso Provvedimenti E ci vediamo Oh nonno Stavamo rischiando Ti sei un matto Te sei un matto No 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 Non lo facciamo mai più Aspettate devo fare la storia La craft storia Forza Vieni con me però Vieni con me perché Praticamente Ma che stai dicendo Gli occhiali stupidi Ignoranti Allora adesso Adesso faccio la craft storia Allora ragazzi Purtroppo è successo Un casino Il poliziotto stava per arrestarci È stato un po' Un casino Però siamo contenti Vi ringraziamo Grazie amori Per tutti Per tutti I like che ci state mettendo Per tutti I commenti Le cose Siete milioni di milioni Stiamo diventando famose Ah in realtà siamo già famosi Siamo superstar Holy holy you Superstar Miss me E niente Ci vediamo al prossimo Alla prossima storia Craft storia Ciao 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 ciao